Una giornata dedicata all'arte, alla cultura, alla ricerca e naturalmente non potevamo che avere come interlocutori naturali quelli di Macao. Ciao Emanuele, benvenuto e ciao Camilla. Hanno tenuto già un workshop, hanno già lavorato duramente il pomeriggio, un workshop a cui abbiamo partecipato anche noi e devo dire è davvero interessante. Si è parlato molto naturalmente delle lotte che fate, dei progetti che avete ma anche di social network. Prima di cominciare la chiacchierata, naturalmente entrare più nelle questioni, in 140 caratteri a testa spieghiamo cos'è Macao, da cosa nasce e cos'è. Macao è nato un anno fa, è un nuovo centro per l'arte, per la cultura a Milano e praticamente si è aperto con l'occupazione di uno dei più importanti grattacieli abbandonati in centro a Milano, di fronte alla stazione centrale e l'idea era un po' di chiamare tutti gli artisti, i cittadini e un po' chi voleva su base assembleare, cioè discutendo sullo stesso livello tra artisti e i cittadini, per costruire un'idea di centro d'arte, una specie di museo costruito dal basso. Questo è una cosa che ha coinvolto tantissimi, tantissimi vi hanno seguito in questo. Sì, no, noi abbiamo fatto una campagna appunto sui social network virale, sull'idea, sull'immaginario di che cosa poteva essere un nuovo museo in Italia costruito dal basso, quindi abbiamo invitato un po' i nomi dei musei più famosi anche, tipo MoMA, in Italia MACRO, MAXI, MAMBO, che sono tutte sigle per titolare i musei. Abbiamo inventato questo nome, MACAO, abbiamo chiesto a tutti in rete cosa per loro sarebbe significato un nuovo museo in Italia costruito dal basso e nel momento in cui abbiamo fatto questa chiamata la mattina prestissimo di un sabato che era difficile anche alzarsi, diciamo, per molti cittadini, attivisti, eccetera, eccetera, ci siamo trovati in una piazza vicino a questo grattacielo in realtà in centinaia di persone. Appena siamo entrati, in realtà nel giro della giornata sono arrivati veramente migliaia di persone. C'era... no, ci siamo stupiti anche noi perché nella città c'era veramente voglia di questa... di questo tipo di sfida. Ecco, lì poi arrivarono non solo naturalmente la gente comune, tra virgolette, ma anche esponenti della cultura milanese, musicisti, attori, scrittori e questo naturalmente poi dopo sicuramente ha stimolato, no? E poi cos'è successo dopo? Ma Torre Galfa, che è stata la prima occupazione, è stata molto attraversata appunto da un sacco di personaggi della cultura, ma anche cittadini, centinaia e centinaia di persone hanno attraversato Torre Galfa nei dieci giorni di occupazione e poi al decimo giorno, alle sei del mattino, è arrivato lo sgombero da parte dell'esercito su mandato del Ministero dell'Interno, poi abbiamo scoperto che... all'epoca era la Ministra Cancellieri e abbiamo scoperto che il figlio era tra i responsabili del gruppo Fonsai, quindi... Cose che poi accadono naturalmente, che fanno sorridere da una parte e dall'altra farci riflettere, no perché poi dopo, scusa se prendo sempre una strada che non c'entra, ma quando si vedono la gente agitarsi all'estero, la stampa italiana è sempre molto gentile, poi quando accade una cosa a casa nostra, oh si è sempre brutti e cattivi noi, è vero o no? Sì, all'inizio anche qui in Torre Galfa c'era abbastanza simpatia da parte dei media, anche mainstream, verso Macao, poi nel momento in cui siamo scesi, cioè scesi, c'è stato lo sgombero e ci siamo fermati per un'occupazione di quattro giorni in quella che abbiamo definito Piazza Macao, ma era via Galvani, lì le istituzioni, ovvero nella figura di Pisapia, sono venute alla prima assemblea dopo lo sgombero e ci hanno proposto l'ex Ansaldo e Macao, però chiedendoci una forma giuridica, quindi chiedendoci di mutare la nostra forma di movimento appena nato, molto grosso, che affrontava molti temi, dalla speculazione edilizia a come creare un nuovo museo nel 2012, ci è stato chiesto di formulare, darci una forma giuridica che fosse una forma giuridica preesistente, quindi un'associazione piuttosto che una fondazione. Esperienza che naturalmente a voi non interessava? Noi ne abbiamo discusso molto, abbiamo passato ben tre o quattro assemblee fatte per strada con centinaia di persone. Io sintetizzo sempre perché è un anno e mezzo di cammino, quindi ovviamente... Però questo passaggio è importante perché non è stato raccontato dai media, non l'hanno capito, forse anche per errori nostri sicuramente, però è stato rifiutato questa offerta, è stato detto che Macao non poteva avere una forma giuridica precostituita e che stava lavorando su nuove forme di cittadinanza attiva e che quindi rifiutava la proposta di partecipare a un bando da parte del Comune. Ecco, poi che cosa è successo? Adesso arriviamo più o meno verso i giorni nostri, cercando di stringere un po' la storia per capire quali sono gli obiettivi, quali sono le modalità e quelli che sono poi i rapporti che voi avete aperto con altre realtà che si sono dimostrate simili, recettive e anche propositive, magari, vi dico io. Sì, ma molto velocemente, in Torregalfa noi ce la prendevamo pubblicamente come simbolo anche con tutto l'impero Ligresti, che è un importantissimo palazzinaro e speculatore nel mondo dell'edilizia, ma anche della finanza, con l'uso, con tante anche amministrazioni e pagine della politica milanese e italiana e in qualche modo, devo dire, finché ce la prendevamo con Ligresti, un tycoon italiano adesso in declino, anche tutta l'opinione pubblica era molto a favore, molto vicina, e anche i Corriere, anche la Repubblica, anche le testate più importanti, erano comunque simpatizzanti rispetto a questa mossa contro Ligresti. Cacciati dalla Torregalfa, come ha detto Camilla, noi abbiamo pensato, dopo aver rifiutato le officine al Santo, che sono una cosa molto bella in centro, in via Tortona, eccetera, eccetera, di prendercela con un progetto che c'è a Milano per la costruzione di un nuovo Louvre, al posto dell'Accademia di Brera, e quindi simbolo un po' della cultura milanese, che vorrebbe stravolgere l'Accademia, impiantare lì un museo tipo Louvre, ma il problema che noi stavamo sottolineando è che con i 150 anni anniversario dell'Unità d'Italia e questo clima delle emergenze e dei commissari continui, si sono mangiati praticamente 50 milioni di euro tutta la cricca, Giovan Paola, Nemone, eccetera, eccetera, sostanzialmente usando quel progetto di nuovo Louvre italiano per mangiarsi dei soldi e lasciare fermi i cantieri. Siamo entrati in Palazzo Cittereo, che è di fianco a Brera, che doveva essere l'ala da ampliare, che era completamente abbandonata da tanti anni, da dieci anni, e lì, devo dire, visto che c'era in mezzo molta della politica milanese, invece anche progressista, tutte le testate di italiano ci hanno proprio completamente scaricato. Diciamo che non c'è la sorpresa, però raccontata così, falso effetto, ecco. No, davvero, complimenti anche per la narrazione, perché a quel punto c'è stato ancora un attimo, dico, ma come, cosa hanno fatto? Invece è andata come, insomma, la logica impone. È arrivato il Ministro della Cultura due giorni dopo, ha preso completamente le distanze da... Ornaghi era. Ornaghi da Macao, dicendo una perla di saggezza, diciamo, che c'è rimasta nei memoriali, dicendo che, secondo la sua opinione, ma non soltanto la sua, nessuna opera artistica e veramente culturale è mai nata nella storia da un atto di sorversione. Questo è uno che ha studiato, si vede proprio sui libri, eh? C'è uno piegato sui libri. No, non abbiamo tanti minuti, ma questa è bella, sono quelle frasi che vanno ricordate, fra poco Nord-Est Boulevard è un altro spazio in cui si parla di arte e cultura. Ecco, volevo arrivare con te. Però questo, tutto questo percorso vi ha aperto, diciamo, a relazioni, a rapporti che si stanno consolidando, no? Non dico, naturalmente, qual è il Nord-Est col sale e oggi siete praticamente ospiti loro, diciamolo, ma insomma anche altri. Ed è questa cosa importante, no? È bella, è positiva, è potente anche. Perché la cultura, invece, come dovremmo dire al sottosegretario, non è mai nata per interposta persona o ministro perché uno ha una ricetta, no? Nasce da un'esigenza di comunicazione, nasce da una voglia di dire qualche cosa, o no? Certo. Sì, c'è una, diciamo, una rete di soggetti di un nuovo tipo di occupazione, degli spazi che nasce a Venezia con il sale d'Ox nel 2007 e poi con l'occupazione del Teatro Valle ha una grande esplosione e da lì un contagio che attraversa tutta Italia. ci sono tre occupazioni in Sicilia, poi Napoli con l'asilo Filangeri e Pisa con altre due occupazioni, quindi è un contagio che ha iniziato qualche anno fa e che adesso sta ampliando, insomma, questa rete di soggetti che stanno cercando di capire come produrre in maniera nuova al di fuori di alcune logiche di mercato che sostanzialmente speculano sul lavoro culturale, ma non solo, anche sulle nostre vite, quello che noi produciamo a livello comunicativo. Ti dico, finalmente, che se avessimo voluto mandare, mi piacerebbe, diciamo, riorganizzare quel workshop come trasmissione TV, perché secondo me le informazioni che vi ho dato questo pomeriggio, secondo me sono interessanti per molte delle persone che ci seguono e sarebbe appunto di stimolo. Ecco, io vi devo lasciare, però non posso lasciarvi prima che presentiamo quello che farete stasera, rapidamente anche qua, ma cosa fate oggi? Voi presentate dalle 21, che in realtà sarà 21.30, orari degli spazi sociali autogestiti, Macau, un anno di produzione indipendenti, no, perché c'è sempre il ritardo, adesso lo facciamo quelli che... solo in TV dovevo andare i puntuali, ma al resto c'è un'elasticità. Cosa presentate oggi? Cosa sono questi... Ma diciamo che Macau, da quando, dal luglio scorso, è attualmente negli spazi dell'ex macello dell'ortomercato di Milano, delle palazzine Liberty molto ampie, abbandonate, molto belle, diciamo sono nate un sacco di produzioni, molto anche interdisciplinari, che vanno dal cinema, al teatro, all'editoria, alla ricerca anche teorica, a un discorso anche che ragionasse e approfondisse un approccio critico rispetto a come viene costruito il territorio e la città, diciamo. Quindi, niente, oggi siamo più o meno a un anno di storia e ci piace venire qua al Festival di Sherwood per presentare, non tutto, però alcune delle cose che secondo noi sono successe di belle, dal punto di vista della produzione proprio, perché quello che ci è sempre piaciuto fare è da una parte avere un approccio anche molto indipendente e anche di azione politica sulla città, però di non svincolare quello dal fatto che noi siamo capaci di produrre linguaggio all'interno di questa lotta. E quindi molti progetti che abbiamo fatto riguardano un po' questo connubio, cioè di riuscire a fare azione politica, però usando anche tutto quello che sappiamo fare, come artisti, come cineasti, come... È bellissimo, è bellissimo quello che state facendo, è bellissimo quello che state dicendo, perché è importante anche dare, io questa cosa qua, guarda, ci credo tanto, anche una forma alla comunicazione, un'estetica alla comunicazione anche che sia di lotta. Mi sembrava un messaggio un po' assurdo, detto così, però l'ho voluto dire perché secondo me è un po' anche quello che fate anche voi, no? Ma io credo che le persone vi apprezzino anche per questo, perché comunque trovano anche un modo di raffigurare, diciamo, anche gli eventi, i momenti, eccetera, comunicativo che scolpisce ed è anche naturalmente molto gradevole, molto bello, questo io credo sia un valore aggiunto, non un qualcosa di penalizzante. Ringraziamo Emanuele, ringraziamo Camilla, ringraziamo Macao, dalle 21, 21 qualche minuto, lo spazio Cine Street, non nella sala cinema, anche se è stato bellissimo, come l'hai detto tu fuori onda prima, ci piace a noi appunto la cosa della sala cinema. Grazie a Macao e naturalmente noi ritorniamo dalle 21 e 10, si sta ancora sul tema dell'arte e della cultura, Silvia Gorgi, Noldez Boulevard, fra qualche attimo siederà in questo studio, con i suoi ospiti. Grazie. 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 Grazie.